Torniamo a seguire il campionato Berretti con l'Arezzo di Elvisa Bruscato che oggi affronta sicuramente una delle migliori formazioni del campionato che si sta contendendo con Livorno e Tutto Cuoio. La vittoria del Girone sono tre squadre che sono lì vicinissime, Prato in testa a quota 31, Livorno e Tutto Cuoio 30, poi c'è anche il Siena 27, queste sono le prime quattro posizioni. L'Arezzo che con un calo di risultati delle ultime partite, l'Arezzo infatti che non vince dalla fine del 2016 4-1 con il Ponte Derado, non ha ancora vinto nell'anno nuovo dove ha perso con Lupa Roma, Dura 1 e Olbia 5-1 nell'ultimo turno e poi pareggiato nell'ultima in casa 1-1 con la Pistoiese. Quest'oggi sarà Dura dunque con il Prato capolista, 10 vittorie, 5 vittorie consecutive per la squadra che è allenata da Bertini. Fiorindi, Gerardini, poi si inserisce bene Daja, attenzione, Daja va a puntare Coselli, poi la palla limite per Gerardini, conclusione! La palla che va fuori di un niente, Arezzo vicinissimo al vantaggio su questa ripartenza di Daja, travolgente, che poi ha affidato a Gerardini questa palla che a caso terra è andata fuori di pochissimo. Gerardini di prima, era buona l'idea perché Bà poteva trovare un corridoio, Arezzo scoperto però da quella parte che non c'è più Bà, attenzione a Bassano che sta per entrare in aria, Bà sta recuperando, Bassano la mette in mezzo, attenzione a Jaun, tutto solo Jaun! E il Prato sfrutta così, questa occasione in contropiede, Prato in vantaggio con Jaun a porta vuota, si è sganciato Bà, ha lasciato scoperta la fascia, ha tentato un recupero estremo su Bassano, appena l'Arezzo ha lasciato qualche metro in più, il Prato l'ha sfruttato e con Jaun passa in vantaggio qui alla nave di Castiglione Fiorentino. Sono estremamente contento di tutti, mentalità è una partita difficile, è una partita dove bisognava correre, bisognava essere aggressivi, una squadra sicuramente che in questo momento sta dicendo che è la prima in classifica per valori, ma c'è stata veramente una grossissima prestazione da parte di tutti i ragazzi, eravamo in grande emergenza ma la squadra oggi è stata incredibile, ha lavorato con mentalità, con grande mentalità in tutta la settimana, ha fatto in modo che queste difficoltà sono diventate un punto di forza e così si cresce. Io e noi vogliamo fare dei giocatori e creare una mentalità vincente, anche questa sconfitta non è un problema, è una sconfitta perché si perde, però non come si è perso precedentemente a Olbia, nel senso una partita stradominata che poi vai a vedere i risultati perché tutti vanno a guardare il risultato e dicono ma che è successo? Oggi si è perso ma si è perso difendendo anche la maglia perché noi apparteniamo all'Arezzo e noi questa maglia qua la dobbiamo tenere bella stretta. Grazie.